buona sera a tutti da gabriele pesa di live sport academy dal circolo sportivo andrea doria per la magnum cap over 35 calciotto dopo lavoro atta contro real madrid real madrid primo possesso del pallone tacca da destra verso sinistra e la dopo lavoro da sinistra verso destra buon divertimento la laterale battuta pallone sulla destra finta però il pallone passa attenzione sulla sinistra prova il tiro alessandrini mura la difesa ancora galliazzi che tiene botta buona la sponda torna indietro pallone filtrante passa prova il tiro bella l'azione dopo lavoro ha trovato un gol bellissimo numero 3 alessandrini canelli in avanti cerca dietro il 7 prova a sterzare andare sulla destra pallone che non riesce ad andare avanti cocca in avanti prova real madrid al centro cerca cassano prova il tiro addirittura a giro de palma prende la traversa piena però velocizzare il gioco real madrid meno di andare al pareggio al primo tempo ancora palla real madrid invece no finisce il primo tempo la dopo lavoro va in vantaggio per un a zero allo scadere il primo tempo inizia il secondo tempo tra dopo lavoro attacca e real madrid in vantaggio e il parziale di un a zero per la dopo lavoro cerca subito di attaccare sulla sinistra pallone al centro viene sventagliata su tutta la del rigore ma il pallone è uscito calcio di punizione prova il 6 napoli mette alto calcio di punizione pallone messo indietro già approvato alessandria pallone al pallone in avanti cassano cross al centro riesce a liberare riesce a recuperare la dopo lavoro salvati prova il tiro parata di disanto attenzione rimane lì il pallone prova il tiro giro pallone che finisce fuori ancora ci ha provato de palma alessandrini giro palla adesso da dopo lavoro gestisce dietro con il portiere lancio lungo attenzione di testa grande lepre che è un'ottima posizione riesce a bloccare il colpo di testa di de palma lancio lungo cerca adesso di tenere il più possibile coppa rilla il pallone finisce qui la partita triplice fischio la dopo lavoro vince contro il real madrid 1 a 0